Ciao. Forse chiedere scusa a te e a papà è troppo tardi. Come ti chiami? Letizia. Hai sempre parlato di un Dio misericordioso? Io credo che tu ti sia sempre sbagliata. No, no, scusami, scusami, perdonami. Voglio la mamma. Non lo faccio apposta. Tu sei una specie di cavaliere. Senti... Quando ascolterei questo messaggio... Lo richiamare. Spero sia troppo tardi. No. Spero sia troppo.